Ciao a tutti ragazzi, oggi vi vogliamo portare un video un pochettino particolare. Abbiamo deciso di fare una piccola collaborazione con uno dei nostri iscritti nonché streamer, sempre in ambito Airston, Mike Soldier. Abbiamo pensato di fare un paio di partite e farvele vedere, quelli che sono i gameplay di alcuni mazzi un pochettino particolari, qualcosa di divertente, qualcosa di un pochettino diverso da quello che vedete di solito. Altre tre partite le troverete invece sul suo canale di Mike, di cui trovate il link in descrizione. Mi raccomando ragazzi fate un salto, guardate il suo canale, è un ragazzo molto bravo, molto divertente e soprattutto un giocatore di Airston che comunque va fuori dagli schemi e secondo me è molto valido. Quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi se vi fa piacere e noi ci vediamo con il nostro video e ci rivedremo domani per il video usuale in inglese alle 6 del pomeriggio. Ciao a tutti ragazzi. Che decuso contro questo ragazzo? Vabbè, io ti porto qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare. Mazzo fuori dal meta, eh? Eh, anche il mio. Eh, ma questo particolarmente fuori meta. Vediamo, dai. Ok, ci siamo. A posto, eccoci. Il guai a te se è un quest rogue. È quest rogue, bravo, hai capito benissimo. Hai capito subito. No, no. Infatti tengo la prima carta a sinistra, te lo dico già subito. Proprio come nel caso delle quest. Ok. Va bene. Sarà un miracle, boh? Un miracle? No, no. Troppo interattivo miracle per piacermi. Siamo mazzi molto molto più fuori meta noi. Vogliamo divertirci di più. Eh, questa l'avevamo un ligato, vabbè. Torna come sempre, va bene così. Almeno non torna la... La mano iniziale. Ecco, esatto. Che mazzo sei tu? Un bel control bello puro, vedo. Sei l'OTK. Oh, madonna, che carta che è uscita. Non so, no, è un OTK. Penso mi sia uscita la carta peggiore dell'espansione. Sì? Sì, 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 quasi sicuramente. Anche Emanuela facendo di sì con la testa. Sarà... Non so. È una carta brutta brutta. Allora, fama così, va. Anche se va spregata la coin. Almeno facciamo un paio di draw. Qualcosa mi dice che sei un Kingsbane rogue. Sono un Kingsbane rogue? Forse, chi lo sa. Tu comunque sei troppo armatura. Sta cosa mi piace. Se non sei un Kingsbane, sei... C'è un... Quell'altro tipo di rogue con l'arma. Eh, ci sono talmente... Talmente tanti di rogue. Questo però mi sa che non l'hai mai visto. Anche perché il mazzo l'ho più o meno creato io. Ah, buono. Bravo. Quindi difficile da trovare. Io pure ogni tanto mi diletto a... A creare mazzi. Eh, però i risultati li ha fatti, eh. Non mi posso lamentare troppo, eh. È che... È molto, molto relativo alle pescate che vengono fatte. È molto situazionale come mazzo. Poi capirai se pesco così... Proprio... Eh, anche io non ho pescato benissimo, anzi. Sì, guarda che ti tiro giù un altro. Bah, vediamo di fare un po' di pulizia, va. Eccala. Arriva la risa. Non so se stiamo bene che ti sia rimasto quello. Ma, sinceramente, qualunque mi uccidessi, secondo me cambiava poco, eh. Mi sa che posso anche buttare questa in campo, tanto ci faccio poco, mi sa, questa partita. Ah, il mio avversario vedo che non sta tirando giù una creatura, no, niente. Non fa niente. Dai, adesso... Una partita è easy. Dove iniziano le danze. Iniziano le danze. Ah, eccola. Eccola. No, attacca quello più sinistro. No, no, sinistro. No. Mannaggia. Niente, non ha sbagliato. E che fanno noi? Eeeh... Cioè, facciamo così intanto, eh. Beh, se ti devo dire la verità, non è che tanto mi dispiace. Che ti rompo l'arma? Che mi ha tirato giù quell'arma. Ah, perché ce n'è già un'altra pronta. Mazza. Brutta cosa. Allora, vediamo un po' qual è. Dai, tiraci fuori sta schiavizzatrice. Eccola. Eccola. No, vediamo cosa ci tira fuori. Buon Mike. Un bel 12-12. 12-12. Beh, ma è caduto nella mia trappola. Io già lo sapevo che faceva ste cose. Sto disgraziato. Vilerba, easy. Vilerba, no, ti faccio peggio. Passo nell'ombra. Vilerba e Harrison Jones. Eeeh... Ma questa è come una mossona. Questa è tosta. Conta che il mazzo gira intorno a una carta che non posso giocare in questo momento, tra l'altro. Quindi proprio sta partita sta andando a scatafascio per sto mazzo. Ok, doppia contusione. Peschiamo, peschiamo. Rossoio del sangue. Hero power. Quella mossa che mi hai fatto era bella tosta. Bella tosta, eh. Sì, 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 sì. Oh, là. Una carta decente, è arrivata. Allucinazione. Vai, andiamo con questa. Meniamoti pesantemente. Eh, oddio, qua non posso giocare praticamente nulla. Andiamo con un due, no? Giochiamo proprio un tempo a Wild Piromancer. Ti faccio un regalo, se vuoi. Vai. Vediamo. Ci sono i saldi oggi. I saldi, mazza. Eh, non sai quanto mi hai fatto felice. C'è la mano piena di creature. Ma proprio piena. È il tipo che... Mo' che ci faccio? Boom. Botte da ordi. Allora. Eh, mo' cerchiamo di buttare via qualche carta, no? Ah, una. Pescando ne altre. Pescando ne altre, ovviamente. Questo mazziamo, non ci piace. Et voilà. Questa carta è molto forte per me. Borseggio. È forte, bisogna vedere un attimino se... Cosa ti dà. Se mi dà le carte che dà me, ci faccio poco. Tra l'altro ho preso tre... Finora quattro carte del... Del guerriero. Una peggio dell'altra. Probabilmente la... L'Arcanite Reaper era la migliore. Allora, il problema è che quella vila erba va tolta. È un vero problema. No, no. Tranquillo. Lasciala lì. Sta bene lì? No, la tolgo. Ah, vabbè. Abbiamo fatto togliere un'esecuzione. Va bene così per noi. Mi puoi fare cose sporche con quella vila erba. Quindi... Meglio toglierla di te. In realtà non ho molto da fare, ti dico la verità. È che facciamo una giocata un po' strana. Questo per farti capire la bellezza delle carte che mi ha regalato la tua classe. Danno tutti. Esecuzione numero due. Perfetto. Ok, quindi sei fuori di esecuzioni. Non hai più. È basso. Ok. Noi andiamo con un'altra allucinazione intanto. Uh, questa ci piace. Questa ci piace assai. Comunque penso che quella mossona che hai fatto abbia indirizzato per bene la partita. Eh, questa è ancora meglio. C'è un bel potenziamento. Eh, questa è buona però potenziamento eh. Questa è un'altra bella mossa eh. Mo' ti voglio vedere. Io intanto ho finito le carte nel mazzo però, dettagli. Eh, non ho molto da fare. Rissa sperando nel 2-1? Eh sì. Dai che esce Tess. Tranquillo. No, vabbè. Eh vabbè. Vabbè, ce lo teniamo. Ok, il potere eroe non ci spaventa. Eh, niente. Vabbè, allora non svegliamo le altre carte in previsione di un prossimo match. Ah, così lo stesso mazzo. Eh sì, dai. Vediamo se mi capitano carte un pochettino migliori. Conta che la carta, la carta peggiore di cui ti parlavo all'inizio era esplorazione di Angoro. Ah, ok. Quindi proprio una di quelle carte che non voglio mai, assolutamente mai vedere con questo mazzo. perché vado a perdere poi tutte le altre. Vabbè, io uso un altro mazzo, allora. Vai. Vediamo. Ci provo con Malfi. Con Malfi? Sì. Se è tonto ho una brutta notizia per te. Di solito lo haro male. Eh, no, non è, non è. Ok, quindi è... Ah, ok, ok. Potrei aver capito di cosa si tratta. Potresti. Vediamo. Eh, io non metto nessuna pressione sulla board, quindi potrebbe essere un problema. Se ti conosco bene, direi un bel Android. No, no. No, niente Android. Ok. No, un altro mazzo. Un altro mazzo ancora. Questo lo sono andato a pescare proprio per fare... per giocare... cioè, la va in questa partita con te. Per qualcosa di interattivo tra di noi. Vediamo un po'. Ok. Ammazza, di già. Facciamo subito vedere chi comanda qui. Ok, hai paura di uno scarabievo? Ti piacciono gli insetti? Non ti piacciono gli insetti che me lo schiacci subito questo? Ammazza, non faceva manco paura. Io qua sono un po' bloccato con questa mano, ti devo dire. Sì. Quindi... Mi sa che salto il turno 3, praticamente. Io non sono partito male, anzi. Eh, fortunato te. E quindi è tonte. No, no, non è. Fidati. Non è tonte. Ma va bene, ci fidiamo. Una bella scorpacciata. Triple ultimate investigation, anzi doppio. Non so in quale dialetto si dica, ma asugna proprio. Una roba che non si può neanche usare, a momenti. Addirittura. Sì, sì. Che è ancora numero 2. Andiamo così, va. Noi ci prepariamo piuttosto per il prossimo turno, dove giochiamo un paio di carte, va. Questa è proprio inutilizzabile. Vabbè, vedremo. Vedremo cosa salta fuori. Boom, giù di botte. Diaspro, armatura, uccidi il 5-5. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Va bene. E piuttosto cosa facciamo? No, questa potrebbe cambiare le cose. Questa cambia un po' di cose. Vediamo un po' come, va. Allora. 2, 4, 5, 6... No, non cambia... Oddio. Fammi pensare. No, credo non cambi comunque nulla. Stavolta niente Harrison, mi dispiace, non ho armatura. No, qua non serve molto, no. In effetti no. Eh no, mi sa che mi tocca... Mi tocca giocarmela così. Ah, bella mossa. Mi tocca giocarmela così perché non ho... Non ho modo di risponderti al momento. Io ti rispondo così. Secondo di aspro, ok. Siamo già fuori di 3 removal, eh. Tra un po' finiscono. I miei? Eh sì. Eh vabbè, non è un problema. Allora, vediamo un po'. Buono, questo è buono. Ci piace. Andiamo a pescare un altro paio di carte, va. C'era una volta. Ad Aguilea su Romano. Vediamo chi ci gioca il buon Mike. Sentieri divergenti. Eh, in queste situazioni sta draw draw. Pesca pesca. Sì, direi di sì. Eh sì. Decisamente la cosa migliore. Tanto sta a 33, full life. Mazza, un'altra ira. Sì, sì, sì. Ti stanno proprio sulle balle i miei minion, eh. Mi sa di sì. Allora, vediamo. Io che ti dico? Che ti regalo? Allora. Uno, due... e quattro. È un po' sprecato, ma... A meno risolviamo questo tizio, perché sennò mi resterà sempre sulle scatole. Risolvi la board? Eh, risolviamo. A meno questo, visto che siamo già abbastanza bassi in vite. Sono tornati i miei dinosauri. Ammazza, oh. Che gli racconto a questo? Eh, che gli racconto io? Facciamo così, va? No, questo... Questo non mi aiuta. Ehm... Ok. Niente di buono. Ah, beh, in qualche modo la risolviamo, eh. Un po' complicata come cosa, ma la risolviamo. Eh, niente, va bene così. Tra l'attimo vediamo altri dinosauri, ma va bene così. Io nel frattempo ho topdeccato. Ah, ecco, bene. Tanto perché noi ci sentivamo già abbastanza male. Ed è un topdeck fortissimo. Ah, cubo into naturalize. Ah, bene, a posto. Match finito. Va bene così. E niente, stavolta il nostro mazzo non ci ha aiutato proprio per nulla. Sono stato abbastanza fortunato, devo dire. Abbiamo prima... No, ma la mia mano era piuttosto brutta. Avevo quello che pompava le creature con provocazione, tradimento. Cioè, tutte carte non utilizzabili in questo momento. Guarda, concludiamo... Cambio mazzo e concludiamo dopo questa, che dici? Va bene, va bene. Dai, ti faccio vedere un altro... Un altro mazzo fuori meta, andiamo. Lo uso anch'io un mazzo fuori meta, dai. Fuori metissimo. Vai. Dinosauri incazzati? No, no, no. Priest? Mmh. Ok, quindi... Priest vs Priest. Vediamo un po' cosa salta fuori. Priest vs Food, nel senso che mi magna in questa partita. La luce porterà alla vittoria. Mi preferivo la mano di prima dove c'erano le creature, eh. Allora... Questa la teniamo sicuramente. Eh, eh, già meglio. Già meglio. Vediamo un attimino se riusciamo a mettere insieme i pezzi. Io ho un po' maluccio qua. Tra l'altro vedo un'infinità di persone sfoggiare questo... Questo bellissimo dorso di agata. Io sinceramente... Ce l'ho, ma ne preferisco altri. L'ho messo perché è abbastanza carino. Poi mi piace il blu, è il mio colore preferito. Ah, ecco. Non per altro. Non per, diciamo, vantarmi del... Del fatto che... Perché è stato abbastanza semplice, non è stato manco... Sì, agata sì. Devo dire che ho trovato più difficoltà con altri, tipo Toki. Toki mi ha fatto abbastanza difficoltà, soprattutto perché ogni volta che stavo per vincere mi ricominciava la partita. E quello era abbastanza problematico. Fai, mi copi? Tipo, mi sa di sì. Gli ne butti sopra un'altra? Ecco a lei. No, no. Ok, va bene, dai. Eh, io per non saperne leggere e scrivere ti faccio questo. Perciò non ho buttato nient'altro sopra. Ah, ecco. Già sapevi? Sì, sapevo. Eh, non ne serve pescare, quindi... Se riesco pure a toglierti un po' di vantaggio, tanto meglio. Già che spaghi le spelle a 1. Ah, spezza niente. Ok, va bene, va bene. Siamo d'accordo su questa carta. Ti spiace, se scelgo necessario. Certo, mi togli l'euro power quando... L'unico turno in cui avrei potuto usarlo, probabilmente. Però va bene così. Face. Face is the place. Esatto. Ammazza. Spezza tenebre. Ok, ok, va bene. Veramente fortino lo spezza tenebre. Abbastanza, sì. Ora me ne calci uno o due, però vabbè. No, no, ti sorprenderò, ti dico. Ti sorprenderò. Mmm, big... Ah, ok, ok, ok. Cosa posso giocare? Vediamo un po'. Mmm. Ancora... Ah, ok. Forse ho capito che mazzo sei, finalmente. Forse ci siamo. Forse ci sono arrivato. Ce l'ho in mano dall'inizio, però non volevo farti capire. Eh, però l'hai calata il turno sbagliato. Ahia. Ma proprio il turno sbagliato l'hai messa. Mi spiace. Eh, vabbè. Dovevo aspettarmelo. Beh, vediamo un po' che dici a questo draghetto. Sette. Eh, quello è brutto. Quello è parecchio brutto. Sai, intanto ho tutto silenzio. Così non ci fai porcate. Poi facciamo che mi curo un pochettino, va. Viene da ridere. Ne hai pescato un altro? Sì. Eh, dai, su. Guarda, non aspettavo altro. Guarda, ma tutti nel deck. Guarda. Allora, noi intanto andiamo con questo. Vai. No, no. Ma che è nel deck? Noi vogliamo pescare. Vorresti pescare? No, con la dissoluzione, eh. Ma quindi che diamine di mazzo sei? Ancora non ho, non ho ben chiaro. Dragon Priest, Spite, non sei Spiteful però. Sei qualcos'altro. Una specie di Dragon Combo Priest che ho fatto. Dragon Combo addirittura? Sì. Quindi Lady in White e cose varie. No, no. Lady in White non la gioco, anche perché non ce l'ho. Allora, senti. Visto che sei combo, io pescate non te ne voglio assolutissimamente dare. Quindi questo intanto ce lo suicidiamo. E te ti puoi riprendere dentro il mazzo tutti quanti. Ok. Intanto li ripesco. Oggi va così. Sì, sì. Questo è abbastanza chiaro ormai. Drago Primordiale, ok. Parola del Potere Scuro. Eh. Io ho una mezza idea di che mazzo tu possa essere. Non hai o ce l'hai? No, ce l'ho, ce l'ho. Ho una mezza idea. Però bisogna trovare pure i modi di risponderti. Mi piacerebbe venissero. Visto che sono abbastanza sicuro di averli dentro il mazzo. Che faccio con quel Talnos? Te lo lascio o no? Ma lascio, che te frega. Sei una pedina dell'ombra. Dai, te lo lascio. Le ripeschi sempre sì, allora. Eh? No, dico, sono scriptate le tue pescate. Hai ripescato il draghetto? Sì, sì, sì. Lo so. Te l'ho detto. Sono proprio scriptate. Oggi va così, te l'ho detto. Allora, sì. Però pure le mie, eh. Abbastanza scriptate. Quindi... Io qualcosina te lo ucciderei. Eh sì, prima che mi fai 40 danni face, meglio... Meglio ammazzartelo, va? Un undici di costituzione contro Priest. Non lo vogliamo, veramente. Ma solo gente con 4 di forza, Giochi. Non ho capito. Eccolo lì. Arriva, eh. Arrivano sti 24 danni face, se non di più. No, non riesco a pescare in Nelfair ancora. Sì, sì, ma la top deckata del prossimo turno. Già lo so. Vedremo. Ah, andiamo così, va? Rinunciamo alle cure? No. Andiamo così. Sperando di pescare qualche carta al prossimo turno. Allora. Mo' se mi fai dissoluzione di... Massa è bruttina, eh. Ok. Bene, bene. Questo ci piace. Lo ripesca. Ok. Ehi, dammelo. Questo intanto lo andiamo a schiantare. Magie nel mazzo dovrei averne ancora poche, quindi secondo me... Non ci esce quella che volevamo. Esatto. No. No, 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 no. Non è uscita. Purtroppo. Eh. Andiamo con questo qua, va. Io qualcosina te lo devo uccidere per forza, perché... Mi sento abbastanza sotto un treno in questo momento. A meno che... Facciamo un po' di conti. Allora. Devo scegliere in fretta. No, no, no. Uno lo aveva già giocato, dovresti averne al massimo un altro. Soffro un po' l'urlo psichico, però. Che soffri? L'urlo psichico che mi mette 2-3-3 nel deck. L'urlo psichico. Ah, questo qua che ho appena pescato. Ah, bene. Dai, sei fortunato. Però faccio quello buono, dai, non te lo gioco. No, dai, gioca, gioca. No, no, non te lo gioco, non te lo gioco. Non c'è bisogno. Questo lo andiamo a copiare, questo lo andiamo a copiare. Questi sono 12 danni face e questi sono altri 24. Addirittura. Ale, dai, ce l'abbiamo fatta. In mano ci avevo. L'ho pescato veramente l'urlo psichico, eh. Top peccato. Ci stava quello, ci stava Anduin. Stavo aspettando che pompavi qualcosa, che lo mettevi a 5. Va bene. È stata una bella partita, Mike. Sono divertito. Anch'io, anch'io. Spero... Ho topdeccato un pochino, eh. Eh, sì. Ti auguro che topdecchi così anche in classificata, perché se lo fai veramente un campione. In classificata sono più le volte però che mi arrabbio che... Non sto rangando, sto provando un po' di tech per la scienza. Eh, pure io sono abbastanza fermo. Mike, ti lascio... Ti lascio alla tua classificata, alla scalata. Bocca al lupo per tutto. È stato un piacere, spero che lo rifaremo presto. Ragazzi, iscrivetevi al loro canale, perché sono veramente simpaticissimi e sono bravi. Quindi, eh, tutto di... tanto di guadagnato. Se vi iscrivete. Grazie, grazie, Mike. Oltre a Airston si occupa anche di giochi anni 90. Vi farà scompisciare, ragazzi. Addirittura. Quindi andate, vedetelo. Vi porterà dei ricordi alla mente che pensavate di aver completamente rimosso. Quindi, se volete fare un salto nell'infanzia, nei vostri anni 90 o inizio anni 2000, andate da lui, date una sbirciata. E poi, mi raccomando, iscrivetevi. A posto, Mike. È stato un piacere. Va bene, dai. Ci... alla prossima partita, allora. Alla prossima partita. Ciao, Mike. Ciao, ciao. Ciao, ciao.